Visto già che c'è un livello di comunicazione fuori dal comune, anche se ci sono esponenti del comune, nel senso che c'è già quella capacità di vedersi, di guardarsi dentro, di guardare delle verità che tante volte non sono piacevoli, ma per poterle affrontare e ho colto negli interventi che mi hanno preceduto, potremmo dire tutti gli ingredienti per comprendere come intanto identificare questi mostri di cui abbiamo parlato e li abbiamo messi in ordine perché sono progressivamente più distruttivi. L'ansia, che ormai credo che sia appannaggio di qualunque persona comune, la vendita degli ansiolitici non so a quanto ammonta, certamente il guadagno maggiore per le case farmaceutiche e così poi anche invece il panico che già chiaramente è un'ansia acuta, un'ansia forte, preferisco il volume basso perché acusticamente è meglio. E dicevo per poi arrivare al mostro dei mostri, qualcuno ha scritto liberaci dal male oscuro, la depressione che per quanto molti psichiatri si ostinano a considerare una problematica solamente neurochimica sarebbe troppo bello avere la medicina della felicità ma questa non esiste, in realtà come vedremo meglio domani ha un'eziologia multifattoriale come a dire ci sono varie componenti nella depressione e nella modalità con cui si struttura questo disagio psichico così grave, così invalidante. Una cosa comune che vorrei un attimo dare come un spunto introduttivo è la comprensione che spesso questi disagi a cominciare dai disturbi d'ansia e a finire con questo male grande della depressione in realtà nascono come difese che non difendono, cioè mi spiego meglio c'è un nemico che non è semplicemente l'evento esterno stressante che in termini per addetti al lavori si chiama stressor e lo stress che è la nostra reazione allo stressor esterno e sicuramente possiamo osservare che il disagio è un disagio esistenziale ma il disagio soprattutto quotidiano è una esperienza comune ma al di là di questi eventi io credo che i nemici peggiori sono quelli che vengono dall'interno né è testimonianza il fatto che la maggiore percentuale di suicidi o di disagi psichici spesso avviene questo non deve scoraggiare l'impegno nel comune, attenzione, o l'impegno a favore dell'attività sociale ma avviene proprio in quei paesi dove la società funziona quasi in una maniera perfetta dove persino il disoccupato ha uno stipendio e dove non c'è una problematica reale come a dire che le problematiche reali hanno un peso in questo disagio ma non è il peso più grande ma i nemici peggiori rimangono i nemici interni e dicevo per combattere dei mostri bisogna intanto identificarli, è difficile combattere qualcosa che non si conosce si rischia di dare pugni al vento e si rischia di muoversi come spesso succede ad alcuni nelle sabbie mobili che più ci si muove più si affonda e vedremo insieme perché questa volta voglio fare una esposizione meno didattica ma cercando di farvi riflettere sulla modalità con cui questi disturbi vengono fuori per darvi già tra le righe uno spunto di riflessione per poterne venire fuori e per aiutare altri a venirne fuori dicevo ho accennato che quando c'è un nemico x c'è una difesa il problema diventa quando la difesa è peggiore del male cioè quando nel tentativo di difenderci da qualche cosa che forse non comprendiamo non vediamo, alla fine creiamo dei meccanismi di difesa che diventano essi stessi trappole più grandi potremmo fare tantissimi esempi, quello più semplice forse da comprendere c'è una paura ancestrale dello sporco e sicuramente con una attività comune di igiene è una cosa giusta ma cosa dire di questa paura che arriva in certi momenti a diventare fobia e diventa ossessione, diventa meccanismo coatto cioè tendenza a doversi lavare una, due, tre volte è igiene quattro, cinque, dieci, cento volte diventa un rimedio peggiore del male come a dire quella paura profonda che non è soltanto dello sporco nel senso fisico perché tante volte quello che viviamo a livello epidermico è espressione di paure più profonde e che purtroppo siamo molto abituati a superficializzare, a somatizzare potremmo dire in un altro termine, quelli che sono problemi più profondi e allora tante volte dalla paura dello sporco ci si difende lavandosi ma capite bene che quando si soffre di un disturbo ossessivo compulsivo con una fobia dello sporco praticamente si trasferisce la propria residenza nel bagno a parte tutti i problemi alle mani eccetera eccetera come a dire la difesa da questo mostro è diventato una trappola ancora più grande e scopriremo insieme che la maggioranza dei disturbi psichici, del disagio psichico dal disturbo d'ansia più semplice e generalizzato cosiddetto GAD, disturbo di ansia generalizzato alla depressione derivano state attenti, questo ci ritorneremo però vi do già un pensiero che vi porta a riflettere derivano dal tentativo fallito di separare il bene e il male dentro di noi cioè di controllare l'irrazionale cioè di controllare quello che non è così facilmente controllabile tant'è vero che poi questi disturbi sono più frequenti lo vedremo specialmente per la depressione ma anche per i disturbi ossessivo compulsivi nelle persone che si creano problemi nell'esprimere l'aggressività cioè non quelli che creano problemi agli altri aggredendo direttamente ma tutte quelle persone che hanno un controllo esagerato un controllo fortissimo sulle proprie pulsioni sulle proprie spinte per cui da qualche parte queste spinte irrazionali se sono solamente addomesticate da qualche parte devono andare a colpire e allora capite bene anziché rompere il collo a qualcuno ci rompiamo il colon anziché portare una vendetta probabilmente aumentano tutti quei meccanismi che favoriscono l'ulcere anche se oggi ci sono gli inibitori di pompa per cui chiaramente si può anche curare in realtà la rabbia repressa produce dei danni nel nostro organismo che chiaramente andrebbero identificati e curati diversamente quindi ripeto la maggioranza dei problemi psichici vedremo deriva dal tentativo fallito di controllare quello che non è facilmente controllabile cercando di reprimerlo cercando di sublimarlo cercando ci sono tante modalità la nostra mente sapete ha una grande capacità di difesa e questi meccanismi di difesa mi riportano alla genesi cioè il libro dell'origine un po' dell'uomo e troviamo lì può sembrarvi strano già il significato profondo di questa difesa di questo tentativo di coprire quella nudità di cui si parlava quel vuoto tentativo purtroppo che spesso fallisce c'è un verso ve lo leggo direttamente che dice così in genesi 3 7 allora si aprirono gli occhi di entrambi e si accorsero che erano nudi unirono dalle foglie di figo ne fecero delle cinture poi udirono la voce di Dio il Signore il quale camminava nel giardino sul far della sera e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino e qui andiamo a questa verità ancestrale della paura che vi darò una brutta notizia non ci sono le persone paurose e quelle coraggiose nel profondo di ogni essere umano c'è una paura poi chiaramente c'è un'elaborazione diversa che ognuno di noi ne fa c'è chi per paura aggredisce per esempio c'è chi per paura fugge c'è chi riesce a elaborare delle difese di un certo tipo per sfuggire anche se rimane presente c'è per esempio chi si fa venire una crisi isterica di fronte a situazioni di conflitto dove non sa che fare ma non ci sono persone coraggiose quindi questa sera è un incoraggiamento per te come a dire se hai paura non sei un caso eccezionale sei un caso comune se a un certo punto della tua vita scopri che dietro quella parvenza di persona invulnerabile indistruttibile inamovibile scopri una persona fragile debole paurosa non hai scoperto nessuna verità tremenda ma è la verità di ogni essere umano il problema è come elaborerai come gestirai questa paura che farà la differenza nella tua vita quindi dicevo qui c'è quella definizione iniziale di quello che c'è nell'intimo di ogni essere umano al verso 9 è scritto Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse dove sei ed egli rispose ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto guardate un poco in questi pochi versi cogliamo questa verità tremenda che c'è nell'intimo di ogni essere umano di fronte alla perfezione di fronte all'assoluto di fronte all'armonia quando siamo chiamati quando ci dobbiamo presentare di fronte a qualcosa che è perfetto infatti sono cavoli amari per i perfezionisti sono quelli vedremo domani più predisposti ai meccanismi depressivi le persone rigide con una morale rigida del dovore essere io devo farcela quelli con obiettivi etico-morali più alti sono più predisposti paradossalmente tutti quelli che si pongono di fronte all'armonia al perfetto che si pongono dagli obiettivi più alti che si sentono chiamati da qualcosa di più grande sono i soggetti che più facilmente poi si renderanno conto di essere nudi e che in qualche modo come è avvenuto per il nostro progenitore ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto in questa espressione troviamo quello che è un po' la base della psicologia che in qualche modo poi gli scienziati psicoterapeuti psicanalisti hanno scoperto secoli dopo cioè di questa difesa profonda dell'io di questa difesa in cui cerchiamo di nascondere agli altri ma non solo agli altri soprattutto a noi stessi delle verità spiacevoli delle realtà che non ci piacerebbe scoprire perché nel momento in cui le scopriamo dovremmo affrontarle e allora qualche volta diciamo stendiamo un pietoso velo ma nel momento in cui stendiamo un pietoso velo nel momento in cui cerchiamo di addomesticare nel momento in cui questi meccanismi di difesa non funzionano e vi sembrerà strano i meccanismi di difesa funzionano meno nelle persone più sincere ve lo ripeto nelle persone che hanno difficoltà a prendersi in giro io non so se tu hai facilità a prendere in giro gli altri è facile c'è chi non ci riesce neanche sapete non bisogna ma prendere in giro se stessi è un poco più complesso e allora nel momento in cui in realtà arriviamo a una verità le difese che ci siamo costruiti le maschere che ci siamo messi cadono e se non abbiamo un'alternativa se non possiamo contare su un'alternativa reale vedere certe situazioni dentro di noi è drammatico e allora spesso troveremo che nei disturbi d'ansia e nel disturbo depressivo in particolare c'è un tentativo estremo da parte della persona di non vedere di non vedere di cercare di negare fino all'ultimo sangue come a dire muoio pur di non aggredire muoio pur di non rompere quindi nel tentativo di controllare quello che è la normale elaborazione della paura vi sto dando tanti concetti se qualcosa poi non la comprendete magari mi fate qualche domanda quando si vive questa paura ancestrale che abbiamo detto essere caratteristica di ognuno di noi cosa pensate che nasce nella psiche dell'uomo nel momento in cui vive la paura da una parte si subisce se viene un malfattore e ti punta la pistola e ti dice dammi il portafoglio da voi succede a noi succede a Palermo no da voi non succede no cosa fate voi normalmente se siete degli esseri abbastanza di buon senso prendete il portafoglio glielo consegnate diventate gentilissimi dice vuole pure dice guardi c'avevo ancora qualche cosa qua vuole vuole le chiavi della macchina comunque sta sparando e sul momento sembra che una cordialità una gentilezza estrema viene fuori chiaramente come istinto di conservazione come modalità per conservare la vita ma cosa succede subito dopo voi pensate che subito dopo continuate ad essere cordiali andate a casa oh sai cara mi è successa una cosa graziosa qualcuno no subito dopo viene una rabbia una violenza che chiaramente in quel momento avete controllato perché non era il caso di esprimerla perché probabilmente avreste avuto la peggio con una pistola davanti ma non siete esperti di karate o di qualche arte marziale che disarma il vostro avversario ma subito dopo qualunque persona viene schiacciata da un meccanismo di paura che la costringe a delle performance che sembrano di adattamento ma in fondo non è così genera un livello di aggressività che voi non avete idea di quanto può essere grande quindi vivere succubi della paura in realtà significa accrescere il proprio patrimonio di aggressività e nel momento in cui questa aggressività non viene espressa nel momento in cui non riuscite a dare diritto di residenza ai vostri escrementi psicologici questa violenza deve prendere altre strade ecco perché sicuramente come consigli più semplici una sana attività sportiva e altri consigli di questo genere sicuramente vengono incontro perché sono come fili di terra per un'energia che chiaramente rischia se non espressa di distruggervi di crearvi malattie psicosomatiche come dicevo poco fa o rischia in certi momenti di arrivare a livelli tali da cominciare a fare accendere quella spia come quando si accende nella spia della benzina ma lì è meno grave nella macchina ma quando si accende la spia dell'olio lì cominciamo ad avere un po' di paura il motore sta fondendo e spesso il disagio psichico è espressione dicevo di uno sforzo oltremisura di un tentativo di superare degli ostacoli senza averne le risorse per cui in qualche modo l'attacco di panico diventa spesso il segnale di qualcuno che ha paura di non riuscire più a gestire il proprio irrazionale a controllare l'aggressività che ha dentro ad affrontare la responsabilità che si è caricata e credo che ogni persona ha una misura di responsabilità però capite bene che ancora una volta i più svantaggiati sono quelli che si prendono più responsabilità ecco perché e non ci dobbiamo meravigliare di questo una falsa soluzione è la demenzialità il vivere nella superficialità nella vanità ecco perché impera questo messaggio nel mondo multimediale perché tutti vogliono evadere fuggire perché hanno paura di questi mostri perché sono abbastanza affamati vogliono mangiare qualcuno e se non si mangeranno il pesce più piccolo posso dire pesce crosto mangia pesce piccolo spesso si mangeranno noi stessi e il disagio psichico la depressione in particolare diventa la protesta di chi non ha il coraggio di protestare diventa un congelarsi diventa un modo per in qualche modo sottrarsi anche ci sono varie valenze vedete vi sto dando un quadro introduttivo diventa una modalità per sottrarsi per esempio c'è una barzelletta che dice come fanno un americano e un russo per sottrarsi a una conferenza alla quale non vogliono partecipare l'americano telefona e dice oh mi è venuto un mal di testa il russo gli viene il mal di testa e ottiene lo stesso risultato cosa significa significa che tante volte per sottrarci alla responsabilità per il nostro senso del dovere non ci permetteremmo mai di poterlo fare a meno che non ci aiuti una malattia capite bene come non è l'unica dinamica della depressione ce ne sono altre ma spesso la malattia diventa un alibi per finalmente non essere costretto a portare quei pesi che non abbiamo il coraggio di rifiutare e non abbiamo neanche il coraggio di ridimensionare perché talvolta ripeto non abbiamo un concetto sobrio delle nostre potenzialità quindi tante volte io vedo persone che anche nel nome di Dio dicono nel nome di Dio sollevo 300 kg e ti viene lernia nel nome di Dio perché perché evidentemente nel nome di Dio non è sufficiente perché se nel nome di Dio ma con le tue risorse solamente umane alla fine significa schiacciarsi se è con la forza di Dio già la cosa un po' cambia quindi anche in questo dobbiamo avere una misura un concetto equilibrato sobrio per capire quei pesi che possiamo portare quelli che non ce la facciamo a portare e lì possiamo imparare anche a dire no può sembrare strano tante persone per dire sempre sì sì ti aiuto sì qua sì non ti preoccupare sì me l'accollo io sì depressione assicurata è questione di tempo perché poi questo bisogno di essere vissuti come oggetto di amore negli altri o di dovere dimostrare qui andiamo in un altro concetto importante questa sera diamo dei concetti molto generali domani sarò un po' più ordinato seguirò un po' il cannavaccio nel tentativo di dover dimostrare agli altri di essere quelli che non siamo ci sobbarchiamo dei paesi inverosimili io mi ricordo ero una persona di queste dicevo sì sì e poi dopo dice ma chi me l'ha fatto fare a dirgli sì quindi dirgli sì anche quando sei cosciente che non puoi aiutare e non sto parlando di quel sì politico che sì 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 che poi già magari ormai sappiamo non mi scuso con i presenti però ma quel sì in cui uno realmente si carica del problema dell'altro e poi si rende conto che chi me l'ha fatto fare io non posso neanche tante volte portare i miei pesi come faccio a caricarmi di quelli degli altri allora capite che tante volte in questo discorso di dovere dimostrare agli altri di dovere dimostrare a se stessi di dovere dimostrare a Dio ecco perché una certa forma di spiritualità può non soltanto non curare i disturbi psichici ma li può accentuare qua entriamo come vedete si allargano un sacco di di campi di riflessione perché perché nel momento in cui io devo dimostrare l'indimostrabile io devo cercare di essere buono per essere accettato capite bene che tutto questo mi può portare tante volte a meccanismi a disturbi a disagi psichici gravi nel momento in cui io temo che quando sarò aggressivo perderò l'accettazione dell'altro sapete perché tra mariti e mogli si esprime di più la realtà di aggressività e per sapere bene conoscere bene me non dovete basarvi su quello che vedete dovreste chiedere a mia moglie perché lì dove ci sentiamo già accettati e accolti noi siamo molto più spontanei non abbiamo tutti quei meccanismi di difesa per nasconderci e quindi dicevo scopriremo domani in particolare che quando viviamo una teologia della grazia vi vediamo in questa maniera e allora questa teologia è capace di guarire il disagio psichico quando invece siamo incappati in quell'arduo compito di dover convincere Dio che siamo buoni non vi dico quello che può succedere non vi dico disturbi ossessivo compulsivi che possono nascere e spesso dimmi la teologia che hai ti dirò la patologia più facile dal punto di vista psichico perché perché ancora una volta dovendo salvarci da soli dovendo controllare dicevo all'inizio l'incontrollabile siamo più predisposti poi a questi meccanismi a queste difese non reali non so che ora abbiamo fatto Pino posso andare un altro po' posso andare un altro po' perché io quando parlo mi dimentico del tempo dicevo per darvi una definizione breve così a onoris cause i disturbi d'ansia principalmente si distinguono in fobie specifiche cioè in paure particolari collegate a un oggetto anche lì è un'illusione perché è come se la persona riuscisse a illudersi che la sua paura è collegata solo a quell'oggetto per cui basta essere a distanza a debita da quella situazione per sentirsi coraggiosi in realtà anche questo è un blef per cui non bisogna semplicemente convincere la persona che quella situazione non è pericolosa bisogna andare ancora lì alla paura ancestrale andare alla paura che c'è di fondo e che magari si è collegata a un oggetto e il collegamento all'oggetto è qualcosa di particolare perché può diventare un handicap tremendo ricordo una professoressa di matematica che ho visto qualche tempo fa che aveva una paura collegata ai serpenti e vivendo in un paese di campagna ogni tanto passavano queste bisce e praticamente lei andava fuori strada direttamente appena vedeva la bisce alla macchina a quel punto la paura può diventare così forte da farti rappresentare l'oggetto ancora prima di vederlo cioè è come dire io comincio a pensare e se lo incontro e se mi trovo in una situazione del genere per cui capite una difesa in quel caso della immagine del serpente può diventare un fattore così indicappante da costringere una persona a rinunziare a una professione perché? per la paura di questo animale e così via potremmo fare centinaia di esempi e le fobie riguardano sia oggetti esterni sia luoghi situazioni eccetera eccetera poi ce n'è una in particolare che si chiama fobia sociale ed è quella che tante volte porta a sfuggire tutti i luoghi di esame tutti i luoghi dove viene messa in discussione la tua performance anzi da performance da prestazione e la fobia sociale credo che è un male che sta realmente portando un sacco di persone a non seguire più corsi universitari a non seguire perché sono così impaurita di sostenere un esame che poi l'esame io quando facevo esami dicevo mamma mia tremendo tremendo finalmente quando ho finito l'ultimo esame della specializzazione in psichiatria ho detto ah finalmente non faccio più esami ma non ho visto che gli esami veri dovevano cominciare dopo gli esami universitari erano una stupidaggine nei confronti degli esami della vita che ci confrontano ogni giorno però dico la paura di sbagliare diventa la paura di non essere accettati diventa un mostro così grande da paralizzare ma vedete ancora una volta il fatto di dover dimostrare di non essere consapevoli di avere un valore ci porta a ritirarci e poi la fobia sociale porta al ritiro sociale poi abbiamo disturbo post-traumatico da stress o disturbo acuto da stress quando si vivono situazioni incredibilmente stressanti lutti sul momento si sviluppa un'energia incredibile ma dopo che finisce l'evento c'è un crollo totale e non voglio spendere altre parole su questi e poi c'è quella che abbiamo chiamato GAD disturbo d'ansia generalizzato che potremmo definire la paura della paura è questo stato di allarme continuo che fino a un certo punto è una protezione certo stare attento al semaforo se è rosso o verde è un'attenzione ansiosa importante positiva ma quest'ansia che in piccola parte è un evento protettivo è un'attenzione nel momento in cui supera e oggi purtroppo supera di gran lunga le valenze protettive diventa paura aspettazione continua di un evento che da un momento all'altro venga e ti distrugga e comprometta la tua vita che sia il crollo delle azioni in borsa che sia non so che cosa una aspettazione ansiosa di qualcosa di tremendo che da un momento all'altro ti colpirà e capite bene che se oggi ci guardiamo intorno bisognerebbe chiedersi anzi com'è che non c'è più paura perché se ci riflettiamo bene non soltanto gli aerei cadono le navi affondano i treni deragliano le macchine ma anche i pedoni da noi sono usati così come birilli o anche qualcuno che si chiude in casa cosa dire delle fughe di gas degli aerei che possono cadere delle radiazioni elettromagnetiche se poi andiamo a vedere quello che mangiamo ma guardate che se fossimo ancora più lucidi dovremmo vivere nell'ansia continua e costante perché realmente il pericolo è in agguato e non esiste un luogo da dove non essere minacciati quindi capite bene che la soluzione non è cambiare posto non è cambiare casa qualcuno dice io fino a che sto in questa casa non ci posso stare questa casa no è questa casa il problema non è il luogo io ero uno di queste persone dicevo ah è questo luogo è questa compagnia è questo lavoro e cambiavo posti e poi il problema è che mi sono accorto che il problema ero io quindi dovunque andavo mi portavo dietro il problema tranne il beneficio iniziale di quando uno cambia la componente che faceva la differenza era la mia vita e io dicevo non lo dicevo ma ve lo sto dicendo ora per tanti anni ho vissuto disturbi d'ansia come un po' nel primo capitolo del libro che è autobiografico per tanti anni ho vissuto meccanismi depressivi quindi ho dovuto vincerli dentro di me e solamente per questo mi sono anche incoraggiato a poterlo esprimere nella professione perché non stiamo parlando dell'aspetto semplicemente farmacologico perché è molto semplice dare un farmaco ma è molto più difficile condurre una persona alla comprensione che forse è un modo di vita che produce il disagio quindi bisogna mettere in discussione il proprio modo di vita noi vorremmo un'anestesia della coscienza ed è grave tante volte come i farmaci vengano usati come agenti decolpevolizzanti come a dire grazie al non lo so non voglio fare un nome di casa farmaceutica grazie al citalopram grazie alla paroxetina grazie la prostituta del bronx potrà continuare a vivere la sua vita così senza crearsi nessun problema grazie no no grazie cioè se il farmaco deve diventare un'anestesia della coscienza se un farmaco deve diventare qualche cosa che copre la conseguenza di uno squilibrio di vita del fatto che ci diamo la testa contro il muro e non vogliamo farci male il farmaco deve darci un'anestesia non va certamente comprenderemo domani che il farmaco ha una valenza importante ma non è il rimedio unico per il disagio psichico troverete molti miei colleghi che vi dicono è l'unico rimedio però cosa anzi c'è una perzelletta la differenza tra un neurotico uno psicotico e uno psichiatra la sapete il neurotico costruisce castelli in aria lo psicotico li va ad abitare e lo psichiatra riscuote la pigione non è bella per gli psichiatri però è bello fare un po' di autoironia ogni tanto cioè non è bene chiaramente arricchire sul disagio degli altri o meglio è importante poter preoccuparsi di dare delle soluzioni che non siano semplicemente stampelle momentanee come vedremo domani l'uso dei farmaci sicuramente ha un'importanza una valenza può fare evolvere il disturbo in una certa maniera ma non deve essere scambiato come unica soluzione a un disagio che è qualche cosa che dipende da una modalità di reazione e di gestione della realtà come sentivamo i disagi disturbi di panico datano da tanto tempo c'è una definizione una descrizione della scrittura in Isaia 21 2 quindi qualche migliaio di anni fa di quello che è un disturbo di panico dice così una visione terribile mi è stata data perciò i miei fianchi sono pieni di dolori delle doglie mi hanno colto come le doglie di una parte oriente io mi contorco per quello che sento sono spaventato da ciò che vedo il mio cuore si smarrisce il terrore si impossessa di me la sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento come vedete delle sensazioni dei vissuti che possono produrre una tempesta così forte da sconvolgere spirito anima e corpo quindi un disagio totale come è quello dell'attacco di panico perché non so chi di voi l'ha provato ma l'attacco di panico realmente ha delle valenze che vanno dall'aspetto fisico una tempesta neurovegetativa a problemi di depersonalizzazione di derealizzazione cioè io non capisco più non mi ritrovo più nella realtà non mi sento più lo stesso ha un senso imminente di morte ci sono tante componenti veramente sconvolgenti e credo che in qualche modo dobbiamo disinnescare e domani parleremo in particolare di come disinnescare questi meccanismi e vedremo che già nella parola di Dio ci sono dei consigli fondamentali dei rimedi anti-ansia ve ne accenno uno in particolare l'apostolo Paolo dice vorrei che voi foste senza preoccupazioni e poi dice attenzione mariti dice chi ha moglie sia come se non l'avesse non fraintendiamo chi compra come se non possedesse chi usa di questo mondo come se non ne usasse perché la figura di questo mondo passa c'è una legge psicologica di una portata incredibile che è quello dell'investimento affettivo cioè nel momento in cui noi diamo un valore spropositato a quello che non ce l'ha automaticamente ci predisponiamo alla crisi nel momento in cui il computer diventa il nostro Dio e poi oltretutto è un Dio che dobbiamo rinnovare ogni sei mesi perché chiaramente si aggiona e poi si è diventato obsoleto col tuo computer che ha una RAM piccola e una RAM più grande ma oltretutto si sfascia in certi momenti non funziona più è un DRAM voi riuscite a immaginare cosa succederà tra dieci anni nel momento in cui c'è un guasto informatico si fermerà tutto voi riuscite a capire come questo sta diventando preludio a quello che sarà secondo la profezia biblica il sistema dell'anticristo chi vorrà comprare e vendere dovrà avere il marchio della bestia c'è un controllo totale per cui non si può sfuggire o sei dentro o è un'identità informatica o sparisci ci sono già dei dei thriller fanta informatici ma che tra breve diventeranno realtà per cui realmente nel momento in cui dipendiamo per la nostra sicurezza da quello che compriamo da quello che possediamo da quello che usiamo ma non solo da un sentimento da un'emozione che per quanto bella può essere precaria perché non so se vi siete resi conti che le vostre emozioni tante volte sono un po' variabili in un momento vedete una cosa in un modo un momento dopo la vedete in un altro modo qual è la verità? meno male che c'è un impegno che c'è un patto nel matrimonio perché tante volte non è che le vediamo sempre nello stesso maniere i nostri partner in certi momenti diciamo chi me l'ha portato eppure noi stessi prima avevamo detto non posso vivere senza di te come cambia l'emozione come cambia i sentimenti come cambiano allora dicevo investire dipendere da qualche cosa che è precario come la realtà ci predispone alla paura costante di perderlo e voi scoprirete che la soluzione lo vedremo meglio ancora domani ha a che fare con la scoperta di una realtà immutabile ma che non significa che viviamo sulle nuvole come i disceboli un giorno quando Gesù era sul monte della trasfigurazione disse ci facciamo tre tende qua stiamo benissimo no ma significa che possiamo vivere in questo mondo nel quotidiano con delle radici con delle certezze più forti più profonde che non possono essere messe in crisi questo è un segreto e quindi scopriremo un poco che il rimedio l'antidoto al di là della benzodiazepina del valium per dire quella più conosciuta o l'exotanotavoro o quello che volete l'antidoto alla paura è qualche cosa che ha un effetto diverso che si chiama fede fiducia fiducia in un progetto abbiamo sentito i vostri cittadini i vostri primi cittadini dire fiducia in un progetto fiducia perché oggi la paura ha creato solamente spettri si vive solo per paura non si vuole più avere il coraggio di credere di fidarsi di costruire qualcosa di alternativo molte persone sono cadute nell'immobilismo nella pigrizia perché hanno paura che qualunque cosa si fa tanto non cambia niente e questo è uno spirito che grava in particolare credo nella nostra Italia e forse in Sicilia e Calabria in maniera ancora più si dice bisogna partire bisogna andarsene non si vuole sperare più c'è una disperazione di fondo che non sempre porterà le persone a un disagio psichico attenzione ma che è un denominatore comune contro cui dobbiamo lottare contro cui si devono confrontare i nostri politici perché come sembra che si rimbalzi contro una volontà di immobilismo di eccetera eccetera lasciamo perdere la fiducia che ha un valore creativo come la paura è una fede negativa cioè il male che temo quasi quasi me lo chiamo la fiducia diventa qualche cosa di costruttivo il coraggio di osare il coraggio di sapere che c'è un progetto il coraggio di ricominciare il coraggio di scoprire una verità spiacevole di se stessi ma non considerarla capolinea come a dire mamma mia cosa ho scoperto dentro di me non me l'aspettavo di essere così se Dio ci potesse parlare ti direbbe perché cosa ti aspettavi da te cosa ti aspettavi dalla natura umana cosa ti aspettavi se a me è costato dovere venire su questa terra proprio per trapiantare qualche cosa di nuovo evidentemente non doveva essere molto buono il tuo cuore se io sono dovuto morire per fare come un donatore d'organo che cede la sua vita perché venga trapiantata ed è importante un principio di guarigione chiaro e lo vedremo sempre domani è considerare il cristianesimo non un'etica e una morale soltanto perché ci sono altre etiche altre morali ma considerarla una vita dentro di noi una vita che ci dà la capacità non ci dice cosa è giusto e sbagliato per questo non abbiamo bisogno già lo potremmo capire da soli ma che ci libera da quella trappola che diceva l'Apostolo Paolo il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco chi mi libererà sarà la forza della concentrazione sarà la meditazione trascendentale o sarà la scoperta che Dio non vuole dirci solamente cose giuste cose sbagliate ma lui vuole darci la potenzialità il miracolo di potere amare di potere perdonare di potere non rimanere condizionate dalla storia della nostra vita ognuno di voi ha una storia e concludo questa sera permettetemi la vena predicativa ognuno di noi ha una storia che poi si è concretizzata in disagi vari io guardando le vostre facce vedo in ognuno di voi veramente delle battaglie incredibili per rimanere in piedi per non disertare quando dico disertare non perché siete nell'esercito ma per rimanere lì a combattere per rimanere nella vostra famiglia guardando sempre la stessa faccia del marito che non è cambiata e il comportamento per rimanere lì sulla breccia dell'impegno sociale per rimanere lì dove veramente diverrebbe di scappare per superare delle percezioni di miseria di difficoltà dove avete scoperto una fragilità che non pensavate e prima forse giudicavate gli altri dicevano ah io certe cose non le potrei mai fare non le potrei mai pensare poi quando avete visto che avete la stessa potenzialità negativa magari siete rimasti scioccati e avete cominciato un processo e un meccanismo di colpevolizzazione autocondanna autopunizione me la faccio pagare perché non sono stato la moglie che avrei voluto ma c'è la vostra storia nei vostri occhi e tante volte c'è come una rassegnazione c'è un lottare sterile c'è una paralisi c'è un fatalismo e io credo invece che lì dove possiamo scoprire che l'ultima parola non è data all'umanesimo ma è data al cristianesimo cioè dove l'umanesimo arriva e dice io più di qua non vado dove l'uomo dice basta la mia pazienza è finita ormai sparo contro tutti lì può subentrare la scoperta di un'energia superiore questa è l'esperienza della mia vita io pensavo prima di amare tutti mi sembravo di essere un buono avevo un fratello che faceva l'anarchico il tossico dipendente con grandi sofferenze per la mia famiglia evidentemente mio padre è pure psichiatra sono un psichiatra figlio di psichiatra e io pensavo che lui era il cattivo e io ero il buono perché io mi controllavo io ero sempre sorridevo facevo luce alla gastrite pensavo 30 chili di meno e poi ho dovuto scoprire che dietro questa mia parvenza di buonismo di perbenismo c'era rabbia violenza paura mascherata ma lì nel momento in cui ho potuto comprendere che non dovevo sforzarmi di cambiare perché avevo cercato una vita di sforzarmi ma non ero riuscito che a coprire mettere una maschera lì scoprendo il cristianesimo non quindi come una dimensione etico-morale una legge che mi costringeva e che mi diceva che dovevo essere buono ma scoprendo un Dio che mi ha detto eh hai scoperto di essere cattivo ben venga questa scoperta che tutti hanno fallito e sono privi di questa realtà interiore perché ora viene il bello e dici come viene il bello ma io mi rendo conto di odiare tutti non sopporto più nessuno mi è caduta quella maschera di perbenismo veramente non ora viene il bello perché ora scoprirai quello che significa ricevere una vita nuova una potenzialità nuova e per me è stato un miracolo perché dalle ceneri di tutti i miei sforzi di dimostrazione a me stesso agli altri di buonismo di perbenismo è cominciata a venire una libertà di amare di perdonare e di essere liberato progressivamente da tutti i miei disturbi d'ansia e depressivi e di questo ringrazio Dio e voi questa sera che mi avete ascoltato